Il Molise si conferma regione di forti bevitori, soprattutto di birra e amari. La relazione al Parlamento del Ministro alla Salute Orazio Schillaci in materia di alcol e problemi alcol correlati traccia un identikit poco lusinghiero. Nonostante i molisani non si capisce bene perché del loro bere in maniera spesso smodata e basta leggere i commenti che circolano sui social per capirlo, se ne facciano piuttosto un vanto, piuttosto che una colpa. Gli indicatori del Ministero parlano invece di comportamenti a rischio perché tengono in considerazione tutti i problemi di salute che l'uso di alcol, oltre a una determinata soglia, è assunto per lunghi periodi della vita, crea dipendenza a parte. Problemi cardiocircolatori, danni al fegato e al pancreas, malnutrizione, infiammazioni delle mucose, tumori del tubo digerente e problemi al sistema immunitario. Per tutti questi fattori vengono raccolti i dati regione per regione. In base a questionarii somministrati alla popolazione vengono registrate le abitudini dei cittadini, per cui in questa relazione del Ministro Schillaci non si parla di bevitori occasionali, ma di coloro che assumono alcol ogni giorno con regolarità e sorpassano la soglia di tolleranza. Ebbene, nel 2021, se legge nel documento, per gli uomini i valori di tutti gli indicatori che identificano comportamenti a rischio sono molto alti. L'80,5% degli uomini molisani sono stati classificati consumatori di alcol al di sopra della media nazionale per il sesto anno consecutivo e il 50% delle donne. Tra le bevande preferite ci sono gli amari e la birra.